Queste inaugurazioni così un po' a ritmo cadenzato vi lasciano un po' perplessi? Sicuramente perplessi perché anche proprio ieri c'è stata l'inaugurazione di un pezzettino di parco nuovo cittadino al vallato insomma risultato di 5 anni di attività del sindaco Seri, sono 400 metri quadrati di nuovo parco un pezzo di terra attrezzata grande come poco più di un campo da calcetto se questi sono i risultati forse era meglio tacere più che andare davanti alle tv e ai giornali a fare pubblicità di questo risultato giusto per fare un esempio ci sono 350.000 metri quadrati del parco cittadino da curare se andassimo avanti con questo ritmo di 400 metri quadrati ogni 5 anni ci vorrebbero ben 4.700 circa anni insomma a parte la battuta che comunque nasce da un'osservazione concreta però giusto per far capire quanto forse interessi al nostro sindaco questo parco urbano in realtà veramente poco